pollici collegabile all'impianto audio di bordo. Sotto il letto inferiore diventa da 33 litri il frigorifero completo di freezer che può essere richiesto anche al posto dei vani nella parete posteriore. Fronte autista una nuova plancia con un cruscotto inedito completo di check up per le batterie che allo strumento analogico centrale abbina il driver information display le cui schermate possono essere personalizzate dal conducente e il secondary information display monocromatico o a colori da 7 pollici all'estrema destra per tenere traccia delle ore di guida e di riposo colloquiare col Dynaflit calcolare la rotta da seguire o sorvegliare lo spazio intorno al camion grazie alle eventuali videocamere collegate. Volendo c'è pure un indicatore per il carico assiale. Manuale o automatico governato anche da un nuovo sensore di raggiamento solare il climatizzatore può essere richiesto completo di rilevatore che azione il ricircolo in caso di nebbia di un filtro carboni attivi ed è un sensore di qualità dell'aria. Il re della strada ha bisogno di